Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo dei post bruciatori. Anche se questo non è un canale che parla di aviazione militare, come sapete sono abbastanza concentrato sull'aviazione civile, anche soprattutto perché di aviazione militare poi non è che ne sappia così tanto, ho ricevuto questa domanda tempo fa per il WISC e da qualcuno di voi e oggi sono qui proprio per parlarne perché comunque i post bruciatori sono stati utilizzati anche su velivoli commerciali quindi di aviazione di linea come il Concorde ad esempio in altre pochissime circostanze. Allora come funziona un post bruciatore e che cos'è? Questo tipo di dispositivo lo troviamo sui caccia militari, su alcuni caccia militari, perché sugli aerei di linea è improponibile sia per il tipo di motore che monta un aereo di linea sia per il fatto che questi dispositivi come vedremo consumano un sacco di carburante, stressano enormemente la struttura dell'aereo e sostanzialmente hanno come unico fine quello di accelerare rapidamente per ad esempio effettuare delle manovre evasive o per decollare in piccoli spazi, quale può essere una porta aerei. Ora il Concorde montava dei post bruciatori perché aveva bisogno di raggiungere velocità supersoniche e quindi questo era nel momento in cui è stato progettato l'unico sistema per raggiungere queste enormi velocità. Allora andiamo a capire un po' come funziona un post bruciatore. I post bruciatori sono applicabili sostanzialmente ai motori a getto, quindi a turbojet, non i turbofan che equipaggiano gli aerei di linea. Allora vi ricordo che un motore turbojet è composto da un compressore, semplifico enormemente naturalmente, una turbina in questo modo e poi c'è l'ugello di espansione, quindi i gas vengono convogliati, qui nel mezzo c'è la camera di combustione, ecco qua. Il motore turbojet aspira aria fredda dall'esterno, la fa passare attraverso un compressore che ne aumenta la pressione, l'aria attraversa tutte le fasi del compressore passando nella camera di combustione dove si miscela al cherosene e aumenta la sua temperatura perché il cherosene prende fuoco a causa dell'inalzamento di temperatura e pressione in questa zona. Quindi questo enorme gas caldo viene fatto attraversare, gli si fa attraversare la turbina, la turbina è posta in rotazione dai gas caldi, sottrae energia termica al gas e la trasforma in energia meccanica che fa ruotare il compressore, che fa entrare altra aria e così via. Quindi questo è un ciclo chiuso. In questo modo da questa parte, nella parte esterna, escono i gas in combusti che a causa della loro enorme temperatura poi qui si espandono e questa espansione determina un loro raffreddamento ma sostanzialmente determina un principio di azione e reazione perché se il gas viene lanciato indietro ovviamente l'intero motore si sposta in avanti. Ora questi motori non sono utilizzati nell'aviazione di linea perché consumano molto e garantiscono alte velocità ma non enormi potenze, mentre un motore turbofan che è leggermente diverso come vedremo sostanzialmente garantisce più potenza quindi può portare su più peso ma a scapito della velocità. Allora il post bruciatore si inserisce nell'ugello. È un dispositivo che va a trovarsi nella sezione dell'ugello di scarico. E come funziona? Il principio è banalissimo. Vengono portate delle linee di carburante fino qui, in questo modo, viene nebulizzato all'interno dell'ugello, quindi della parte terminale del motore. Cosa succede qui? Ovviamente il cherosene nebulizzato trova aria molto calda e incandescente e quindi si incendia aumentando la temperatura di questi gas e quindi aumentando l'espansione di questi gas. Questi gas ovviamente escono con una forza ancora maggiore dall'ugello e garantiscono una spinta ancora molto maggiore. Ora la domanda è perché questo sistema non rimane acceso in continuazione? Se dà una maggiore spinta? Beh ovviamente la risposta è che questo enorme aumento di temperatura stressa enormemente le strutture, quindi il post bruciatore si utilizza solo per brevi tratti, cioè quando serve accelerare ma tenerlo in crociera a meno che il motore non sia progettato per farlo ovviamente è un dispendio di carburante inutile perché comunque questa spinta consuma molto più carburante o meglio possiamo dire più correttamente che diminuisce l'efficienza del motore che significa che se il motore prima consumava 10 per ottenere 10 adesso il motore consuma 100 per ottenere 30. Quindi è ovvio che questo post bruciatore non conviene a nessuno, conviene soltanto proprio in quelle manovre in cui serve una potenza ausiliaria che si può avere diciamo a scapito del consumo di carburante. Quindi immaginate una rapida riattaccata al decollo da una porta aerei, immaginate una manovra evasiva durante un inseguimento aereo, quindi questa cosa qui è per lo più deputata agli aerei militari. Quindi la enorme temperatura che si sviluppa nei gas di scarico determina una spinta maggiore nei confronti del motore. Questo è il funzionamento del post bruciatore. Non c'è molto altro da dire se non che queste soluzioni generalmente si uniscono a degli ugelli che si chiamano geometria variabile. Praticamente l'ugello per garantire una solidità strutturale può essere diciamo più aperto o più chiuso. Questo viene fatto se noi vediamo l'ugello in sezione così con delle paratie che possono essere mosse in questo modo oppure essere più chiuse. Quindi queste paratie si possono aprire e chiudere e ovviamente variare la geometria dell'ugello. Questo perché ovviamente quando andiamo ad utilizzare il post bruciatore l'enorme quantità di gas che si sviluppa ha bisogno di una sezione più grande per uscire se no il motore si affoga sostanzialmente perché poi è vero che qui arriva una grossa massa d'aria che costringe il gas qui ad uscire. Ma se questa sezione è troppo piccola ci può essere anche una forzatura nei confronti della turbina che quindi rallenta paradossalmente il motore perché ovviamente il gas qui si espande in tutte le direzioni. L'unica cosa che evita che l'espansione avvenga in questo lato è il flusso d'aria. Ecco perché i motori prima di avere carburante devono essere messi in rotazione perché l'aria deve essere forzata a fare questo movimento e non ad espandersi qui in tutte le direzioni se no ci sarebbe un'esplosione. Ultima cosa da dire in merito a questo riguarda l'ossigeno. Infatti non so se ci avete pensato ma l'ossigeno qui chi glielo dà al post bruciatore per funzionare perché sapete senza ossigeno niente fiamma. In realtà tutti i motori a getto ai turbofan anche i turbojet ma in generale tutti i motori a getto hanno ancora abbastanza ossigeno qui per garantire un altro po' di combustione. Questo ovviamente perché il motori a getto aspira enormi quantità di aria e non è che tutto l'ossigeno rientra nel processo ossidativo del carburante quindi una parte dell'ossigeno è ancora presente in quanto tale ed è ancora presente anche durante l'utilizzo del post bruciatore qui quindi anche il post bruciatore non è che brucia tutto l'ossigeno possibile ma una certa quantità di ossigeno rimane. Certo è quando si utilizza il post bruciatore qui ci sono molti più residui tipo anidride carbonica, residui di combustione rispetto a quando non lo si utilizza perché ovviamente l'ossigeno che fa funzionare questa cosa qui comunque arriva dalla parte frontale. Bene questo era tutto quello che avevo da dirvi sul post bruciatore. Come sempre se il video vi è piaciuto io spero di aver risposto alla domanda in tal caso ricordate di mettere mi piace, condividere il video con i vostri amici, commentare se avete dei dubbi, delle domande o delle osservazioni. Ricordate anche di passare dai miei social trovate i link in descrizione. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video. Grazie.